La quota contro il 481 di Osiride Witt, che è la prima alternativa. L'errore di Navaya de Gloria e Osiride Witt, che va così a condurre nei confronti di Imagine, quindi Minnesota, Kub, via via tutti gli altri. Chiusi da Neru dei Greppi, che ha colto brutta partenza. Intanto Osiride Witt completa in 16,7 i primi 200 e ha sempre in schiena Imagine, terza posizione per Minnesota Kub. C'è già la mossa di Megrebi dalle retrovie, 400 intanto in 32. Megrebi si avvicina a grandi falcate, si porta su Osiride Witt dopo 500 metri di gara, l'impegna e passa. Megrebi leader, quindi meno di 600 metri, ha recuperato la penalità. L'ievo di Mauro Biasuzzi e ora guida avanti a Osiride Witt, poi Imagine. 46,8 il passaggio ai 600, naturalmente vale molto meno per Megrebi, che si appresta a completare il mezzo miglio. Coperto in 1,2 scarso. Una volta al comando Megrebi, tranquillamente continua a guidare. Con una lunghezza e mezza su Osiride Witt, poi Imagine ancora a Minnesota Kub all'esterno, si fa luce intanto. Odone Mepi è seguito da Only One Glory. Intanto il chilometro iniziale in 1,18 preso dallo start. Iniziato l'ultimo giro con Megrebi in vantaggio. Odone si avvicina e raggiunge il sediolo di Osiride Witt. Siamo ora al mezzo miglio conclusivo con Megrebi in vantaggio. Odone che ha parigliato completamente Osiride Witt, seguito a sua volta da Only One Glory. Lungo la corda c'è Imagine, 700 alla conclusione. Megrebi continua a controllare la corsa, ora accelera sulla presenza esterna di Odone. Il parziale in 14,4. 500 al palo. Con Odone che avvicina Megrebi alla corda e sempre Osiride Witt. Poi Only One Glory, 400 alla conclusione. Un 14,5 ancora di parziale per Megrebi che per il momento non si scrolla di dosso. Odone Mepi sposta addirittura in terza ruota Only One Glory. Cavaglia al completamento della curva finale. Si avvicina anche Orania e anche Nero dei Greppi. Retta d'arrivo. Megrebi entra in testa. Ci prova ancora Odone. E la corda c'è Osiride ma allunga nuovamente Megrebi. Megrebi nel finale allunga in scioltezza. Vince come vuole. Il secondo posto è per Osiride Witt. Mentre al terzo Nero dei Greppi riesce a prevalere di misura su Odone Mepi e Imagine. 2,32 e mezzo con 29,5 a chiudere. Il successo per Megrebi che torna così alla vittoria dopo le due corse di rientro. sfonda in meno di 600 metri, poi allunga facile sul traguardo. Seguito da Osiride Witt. Mauro Biasuzzi a segno. 2,79 la quota al totalizzatore. Grazie. Grazie a tutti.